Dopo l'esordio vincente contro il Vardar, oggi il Brera Strumiza ospita il Vosca. Benvenuti al Goran Pandev Sport Center per la seconda giornata della massima serie macedone, la Purva Liga. Inizia adesso Brera Strumiza-Vosca con il primo possesso per i nero-verdi della terza squadra di Milano. Nawel Franco prova a cercare uno spazio, prende il centro del campo, poi cambia tutto dove c'è Velinowski, apparecchia sul sinistro Velinowski, cerca la botta alta sopra la traversa. Ci ha provato Velinowski. Il rinvio molto profondo, stacca la difesa del Vosca, poi ribaudo di prima ancora per Kristevski. Si sè, ritorna da Kristevski, si guarda intorno, poi cerca di esplodere il destro ed è un gol bellissimo. Dopo un quarto d'ora la sblocca. Kristevski, prodotto dell'Accademia Pandev, era andato vicinissimo al gol contro il Vardar. Trova una meraviglia alla seconda giornata contro il Vosca. È un gol pesantissimo che sblocca la gara, ma è anche un gol bellissimo. Da quella posizione lì, quel gol lì. Mamma mia ragazzi, cosa si è inventato Kristevski? Buono il pallone ancora per Vane Kristevski. Accanto a lui c'è Ribaudo. Palla per l'italiano, che poi punta l'uomo, aspetta, va sul fondo, cerca il cross e poi la sponda per Velinowski. Palla alta. Ci ha provato appoggio e tiro di Velinowski. Calcio d'angolo con Ribaudo, che va al cross. Nawel Franco rimette nel mezzo e poi la palla sopra la traversa di Alexander Ristevski. Era molto interessante anche in questo caso. Nawel Franco di prima, l'argentino per Ristevski, che forse non si è trovato la zolla adatta. E allora ancora in avanti comunque il Blerastrumis ha con Ribaudo. Ad un passo dal 2 a 0 l'italiano. Chiude Stoicevski, il difensore del Vosca. Qui Ribaudo ad un passo dal primo gol nel campionato macedone. Eccolo Ristevski. Per Kristevski e poi Papesissé. Si gira, si sea, fermato, irregolarmente. Calcio di punizione. Sul pallone va Vrdoliak, alto, sopra la traversa. Adesso ci prova il Vosca. Bella palla per Alexa Marusic. Tra le braccia di Alkevski. E allora ancora Leo Antonio. Eccolo qua, il brasiliano. Lascia lì per Ribaudo. Ribaudo fa tutto da solo. Ribaudo in mezzo a 5. Cosa sta facendo? Ribaudo! Poi non riesce ad esplodere a dovere il mancino. Voleva fare tutto da solo. Ribaudo e ci stava anche riuscendo. Fenomenale! Il 30 prodotto del settore giovanile del Parma. E allora inizia il secondo tempo. Tra Brera Strumica e Vosca. Il lancio adesso a cercare Jasarovski. L'appoggio un po' difficoltoso. Riesce comunque ad andare lungo per Marusic. Davanti al portiere Marusic. Alkesky fa un miracolo per levare il veleno dal destro del numero 9 del Vosca. Marusic alla prima vera occasione del Vosca. Gran risposta di Alkesky. Allora punizione. Palla dentro. Raccoglie Velinoski. Di prima. Lì c'è anche Ribaudo. Eccolo il numero 30. Arriva il cross. Il colpo di testa. E la traversa. A dire di no a Risteschi. Che ci aveva provato svettando in aria. E in aria. Ribaudo arrotato con il destro. Risteschi traversa. E allora Vrdoliak. Per Galeschi. La ruleta. E poi prova ad andare fino in fondo Galeschi. Arriva il cross. Chiude la difesa del Vosca. Calcio d'angolo per il Brera Strumiza. Uno degli ultimi colpi di questo match. Sempre 1 a 0. Sul pallone. Vavr Doliak. Nel mezzo il colpo di testa. Agro Rufati. Agro Rufati. 2 a 0. E forse mette il punto esclamativo sulla partita. La seconda consecutiva del Brera Strumiza. Per quello che potrebbe essere il gol vittoria. Agro Rufati. Una storia molto particolare la sua. Cresciuto nel settore giovanile della Dinamo Zagabria. Era rimasto senza squadra. Una nuova vita calcistica in Macedonia con il Brera Strumiza. Primo gol in campionato per lui. E allora il cross nel mezzo. Tra le braccia di Alcheschi. Che resta giù. Fermo. A terra. Non c'è più tempo. 2 a 0. Brera Strumiza sul Vosca. Seconda vittoria consecutiva. Ancora clean sheet per la squadra del presidente Pandev.